Davide Andaloro, Senior Market Strategist di Goldman Sachs Asset Management, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Grazie, ben trovato. Partirei con lei commentando un dato, i mercati finanziari hanno subito una forte battuta dal resto e c'è stato un potente sell-off nel mese di marzo, è ciò che si aspettavano i mercati anche visti gli anni precedenti di bull market oppure secondo lei è un evento dagli effetti negativi che perdureranno in lungo periodo? Ottimo, sì no, ottima domanda. Alla fine possiamo dire che il ciclo economico che ormai si è concluso è stato un ciclo molto positivo relativamente ai rendimenti e questo ha fatto pensare a molti appunto che una correzione prima o poi dovesse arrivare in ottica cross asset. Non solo l'azionario ma anche il credit e l'obbligazionario erano tutti quanti comparti abbastanza cari e questo normalmente porta a una posizione di fragilità. Ecco, una volta che abbiamo visto questa fragilità iniziare a tramutarsi in un ribasso, ovviamente abbiamo visto questa fragilità portare ai risultati che abbiamo visto. In molti si aspettavano appunto una correzione ma in pochissimi una crisi economica dell'impatto tale dovuto al coronavirus. Questa è, definita dal Fondo Monetario Internazionale qualche giorno fa, la crisi economica più grande dai tempi della Grande Depressione. Ecco, quindi come sappiamo i cicli economici non durano per sempre. Se guardiamo agli ultimi cento anni abbiamo visto diversi fini di cicli economici, partendo da inflazione, politica monetaria, crisi sul petrolio, ovviamente abbiamo visto anche in questi giorni, come questo sta andando appunto a mettere più legna al fuoco. E le ultime tre causate da eccessi finanziari. Ecco, relativamente agli eccessi finanziari, tutti gli occhi erano puntati lì, ma abbiamo visto anzi questo un fattore positivo oggi. Quindi sai, a livello macro c'è una sfida, la sfida è diversa dalle sfide poste da recessioni precedenti perché questa è una sfida unica. È cominciato questo episodio del coronavirus da un blocco improvviso all'economia reale e ora stiamo vedendo l'impatto sui mercati, mentre normalmente le altre crisi erano un po' un blocco al settore finanziario per poi lavorare sull'economia reale. Ecco, per questo vediamo anche questa dislocazione molto importante tra macro e i mercati. L'automercato abbiamo visto un bel rimbalzo, probabilmente le cose potrebbero migliorare da qua alla fine dell'anno, ma ci aspettiamo ancora molta volatilità. Invece l'automacro vediamo come i dati purtroppo oscillano tra negativi e molto negativi. Abbiamo visto comunque uno stimolo senza precedenti, sia lato monetario che fiscale, soprattutto finora lato America, che appunto sta un po' facendo a tutti il colpo. Ecco, quindi è una situazione diversa da quella che pensavano in molti, ma appunto è una situazione adesso da monitorare in maniera molto da vicino. Davide, abbiamo guardato un po' al passato, davvero molto recente, in realtà andiamo verso il futuro però e quindi le chiedo quali settori in questo momento Goldman Sachs sta guardando con interesse e quali invece lei sconsiglierebbe, quindi direbbe a un investitore di strada larga sostanzialmente. Certo, no, è vero, guardiamo verso il futuro e possiamo vedere anche come questo social distance, in questo lavorare da casa, molto probabilmente avrà delle ripercussioni di lungo periodo, quindi ad esempio il settore tecnologico, che è uno di quei settori che ci piacciono di più al momento, vedrà appunto questa disruption rimanere con sé per qualche tempo, ecco. Relativamente a quali società, a quali compagnie, ecco, ci piacciono società con bilanci relativamente più forti rispetto ad altre. Perché? Perché ovviamente abbiamo visto un blocco totale e queste società con bilanci più forti possono far fronte a flussi di casse negativi dovuto appunto a questa chiusura economica e hanno appunto più tempo per cercare di sistemare le proprie attività. Ecco, il tempo è ciò di cui tutti hanno più bisogno ora come ora, ma solo quelle compagnie posizionate in maniera più solida, ecco, hanno più tempo rispetto alle altre. Quindi non solamente la dimensione, ma anche bilanci più forti nella propria posizione di flussi di cassa, nella propria posizione rispetto a indici di attività, leva finanziaria più bassa e via dicendo. E quando guardiamo ottica tra settori, ovviamente avremo dei vincitori e vinti, di questo abbiamo già parlato, la tecnologia a nostro avviso è uno dei vincitori, ecco. Così come magari il settore delle telecomunicazioni, in cui i flussi di cassa sono relativamente costanti nel tempo, o le infrastrutture che hanno l'attività normalmente alta e inelastica, se vogliamo, rispetto a fluttuazioni di breve periodo. Mentre il settore dell'energia, ad esempio, guardando anche quello che sta succedendo sui prezzi del petrolio, un qualcosa da essere, diciamo, più selettivi, da essere un pochino più cauti e vedremo anche molti default. Ecco, questi sono già iniziati, probabilmente con un petrolio a 15 dollari a barile, ne vedremo altri. Ultima cosa da dire in merito appunto alla strategia è che, a nostro avviso, la volatilità rimarrà con noi, la liquidità nel mercato sta migliorando, non è ancora a livelli definiti normali e questo vuol dire che c'è più possibilità di aggiungere valore tramite una selezione più di bottom-up. Ecco, quindi la selettività diventa più importante in questi momenti in cui la volatilità è alta, la liquidità non è proprio ottima e quindi c'è più possibilità per la gestione attiva da aggiungere valore. Davide, ultima domanda, ultima battuta. Com'è cambiata la vostra strategia da quello che ci raccontavamo inizio anno, il vostro outlook per il 2020 ha subito delle modifiche o in un'ottica di lungo periodo poco è cambiato? Se qualcosa è cambiato, che cosa? E soprattutto se ci puoi spiegare come costruire un portafoglio che si difenda a questo punto da questa forte volatilità a cui andremo incontro per il resto dell'anno? Certo, ottima domanda. Come dicevamo, la strategia per il 2020 è cambiata sì. A inizio anno ci aspettavamo una crescita globale intorno al 3.4%, ora siamo in territorio molto negativo, intorno al meno 2.7%, più o meno per il 2020. Poi ovviamente fare previsioni oggi è molto difficile a vista di certezza in tutti i dati macro che vediamo. Andando oltre, quindi guardando la locazione strategica, normalmente abbiamo in mente i dieci anni, dieci anni da qua in futuro, come ancora. Ecco, è una locazione strategica che alla fine poco è cambiato, perché cerchiamo appunto di andare oltre quelle che possono essere dinamiche di breve periodo, anche se ovviamente certi fattori saranno con noi per un po', ad esempio il fatto che molte banche centrali sono adesso allo zero o meglio a livello di tasso di interesse molto molto basso, questo ovviamente sarà con noi per un po'. Quindi i dieci anni sono normalmente un intervallo lungo, più del ciclo economico medio e ovviamente sì, andiamo incontro a regimi diversi di rischio rendimento, ma è importante avere qualcosa che appunto non è troppo condizionata da un punto di vista ciclico, tattico. Dicevamo prima, probabilmente la situazione potrà migliorare lato mercato e da qua a fine anno avremo dei rendimenti positivi, ma ci sarà anche molta volatilità, quindi a nostro avviso da un punto di vista tattico il binomio rischio rendimento, viste le valutazioni molto più economiche, è più a favore del rendimento per quegli investitori che riescono ad allungare l'orizzonte temporale a 12 o 24 mesi. Ma da un punto di vista strategico è un ottimo periodo appunto per aumentare la flessibilità di portafoglio e qui ecco il reddito e la diversificazione sono due elementi importanti che possono un po' attutire quelli che saranno inevitabilmente altre ondate di ribasso, anche con una incertezza del genere e una volatilità del genere, il 2020 sarà pieno di sorprese, speriamo ovviamente solo in negativo, solo non in negativo. Speriamo positive. Davide, grazie per essere stato in nostra compagnia alla prossima occasione. Senz'altro, grazie a voi. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a tutti